l'Europei SK ultima giornata Italia Danimarca l'arbitro Alessandro Passarello guardiamo che Giordano ha giocato fino ad adesso con un bambino il classico saluto tra le formazioni capitano i due capitani buonasera come sapete 10 io l'altro 10 10 in bocca al lupo l'Europei SK ultima giornata gironea Italia Danimarca l'Europei SK ultima giornata su Italian l'ります il castورna in poi il L'Europei SK, secondo tempo dell'ultima partita del Girone tra Italia e Danimarca. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!